Vai Ale, vai! Attenzione! Vai, vai, respira, butta fuori, butta fuori e vai! Vai, vai, vai! Vai Ale! Attenzione! Vai Ale! Guardate questo bimbo quanto cammini! Allunga anche all'ultimo addirittura! Bravo! Bravi, bravi, un applauso! Forza, forza! Forza, forza! Eccolo qua, un bel gruppetto di attiati! Forza bimbi! Forza, bravissimo! Forza, dai Ottavio! Forza ragazzi, dai dai fatti! Forza bimbi, forza, forza! Eccoli qua, arrivati tutti, tutti d'un fiato! E' questa gara, 500 metri di categoria giardiente! Intanto chiamiamo già i ragazzi, i ragazzi al campo di spunta! Chiamiamo i ragazzi al campo di spunta! Categoria ragazzi, l'Atletica Alta Toscana per il contributo delle medaglie! Viene data la partenza! Mille metri! Mille metri! Bimbi! Vai! 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 Ragazzi si devono preparare già dentro la spunta i bimbi! bimbi. Stretto. Stretto. Piano, piano, stretto. Sì, ecco. Un saluto a questi ragazzi che arrivano sono nei categorie ragazzi, invece i bimbi sono già nel campo di riscaldamento. Anche questi ragazzi fanno mille metri, ok Gianni? Partiti! Allora il giro di qua, vediamo il giro di qua, vediamo già un primo allungamento del gruppo, il passato è piuttosto deciso che tirano i piedi e i compagni di giro. Forza ragazzi, vi mancano ancora 600 metri arrivati alla curva. Allora, eccoli qua, l'arrivo, una volata, una volata proprio all'ultima curva, era passato, guardate allungo deciso, ora un pari cadute per fermarmi quello. Un grande corsa, arrivano tutti, uno segue a quell'altro, lo vediamo, ahimè uno spalla a spalla proprio per aggiudicarsi la posizione che porterà. Alpiapuane, ancora Alpiapuane, 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 Alpiapuane è una volata a tre forse, sgranati poi sotto. 1,10, punto, 10, finita tutti la categoria delle bimbe anche queste un giro da un chilometro un giro grande ultimo giro grande un giro grande un giro grande un giro grande allora l'arrivo della prima delle cadette mi raccomando a tutte queste bravissime ragazze a tutte queste bravissime ragazze che sono andate la meglio sui 1500 metri di campestre non è proprio non è proprio grosso come è un lato ragazzi partiti anche loro faranno 1500 metri stretto 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 oltre a 1.800 metri di questi ragazzi passano sotto l'arco confinabile e inallelano un giro ragazzi che stanno passando per solo una forza campestre di 1500 metri è un bel gruppo è tutto da vedere quello che sarà la fine perché manca ancora un chilometro è un giro grande una forza jungola ma anche ancora un giro grande ma anche se siätter metri. Adesso sono le ore 10.20, chiamiamo già allievi, senior, promesse e l'unior donne al campo di spunta. Allievi, allievi, l'unior, promesse e senior donne al campo di spunta. Intanto questi hanno chiuso, questi ragazzi, 1.500 metri, ore 10.30, appena spunta. Due minuti di margine, però chiamiamo già le donne allievi, l'unior, promesse e senior donne al campo di spunta. Dato che abbiamo avuto più premi che partecipanti donne, aumento i premi nella categoria uomini.